Il Padova pareggia al venticinquesimo, punizione di Lunghi, testa di provvidenza a Gabrielli, niente da fare per Micillo, è il secondo gol in campionato del terzino biancoscudato. È stato un gol molto importante anche perché è fatto così, abbiamo parangiato questa partita, fino a quel momento eravamo in B, con questo gol si è riuscita a raddensare la situazione, abbiamo ancora tre punti di vantaggio, ci aspetta domenica prossima una partita molto importante, quindi ce la dobbiamo giocare a Milano.